buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica a domanda risponde oggi parleremo di permessi per i docenti per gli ata e spiegheremo bene come funzionano prima domanda sono un docente precario con contratto di supprenza breve mi è stato negato il permesso di tre giorni di lutto per la perdita del nonno materno mi sarebbe toccato questo permesso retribuito oppure no il permesso retribuito per motivi di lutto anche per docenti supprenzi breve è un diritto fruibile per tre giorni tale diritto si applica per la perdita del coniuge dei parenti ente il secondo grado del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado essendo il nonno parente entro il secondo grado sarebbe toccato il permesso retribuito domanda numero 2 il collaboratore scolastico supplente breve che decide di donare il sangue ha diritto alla giornata di permesso interamente retribuita diciamo che il comma 7 dell'articolo 15 del contratto collettivo nazionale scuola 2006 2009 e poi rinnovato nel 16 18 nel 19 21 specifica che il dipendente dunque sia docente che personaleata ha diritto anche ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge a tal proposito la legge numero 584 del 13 luglio 1967 l'articolo 1 dispone che i donatori di sangue e di emocomponenti col rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa i relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 del 23 aprile 1981 la numero 155 domanda numero 3 il docente di insegnamento tecnico pratico titolare cioè di ruolo in una scuola a cosenza che chiede tre giorni di permesso per l'esame di laurea presso università di milano compresi i giorni di viaggio per raggiungere la sede poi tornare indietro a cosenza a diritto al permesso retribuito assolutamente sì a diritto al permesso retribuito tale permesso è garantito dall'articolo 15 comma 1 del contratto collettivo nazionale scuola 2006 2009 che prevede fino a otto giorni di permesso retribuito per concorsi ed esami compresi i giorni di viaggio speriamo che le risposte a queste domande siano utili al nostro pubblico seguiteci sui nostri canali social facebook instagram su youtube e seguiteci anche nelle nostre dirette dove andremo a parlare anche di temi come quelli dei permessi retribuiti o anche non retribuiti del personale docente eata a contratto a tempo indeterminato ma anche per i supplenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno al 31 agosto per le supplenze brevi arrivederci alla prossima